Scognamiglio, l'esordio a Salerno, praticamente casa tua, però Gennaro non ci sarà, eh? Quel cartellino con il Verona. Sì, sicuramente ci tenevo tantissimo a partire, anche perché l'esordio in campionato è sempre bello. Puoi giocare su un campo così bello, con una tifoseria importante come quella della Salernitana. C'è sempre voglia di giocarlo queste partite, però purtroppo devo scontare questa giornata di squalifica. Sicuramente i miei compagni mi faranno sentire la mia mancanza. Che pescara sta nascendo, Gennaro? No, un bel pescara. La maggior parte siamo il gruppo dell'anno scorso, più tutti i ragazzi nuovi che sono arrivati, che si sono messi subito a disposizione del mister. C'è un po' di differenza rispetto all'anno scorso, che il mister vuole che la squadra vada in avanti e recupera subito la palla nel campo avversario, che poi ci sono meno metri da percorrere per andare alla conclusione. Quindi un pescara più votato all'attacco. Parliamo del tuo reparto, il reparto arretrato. Rispetto allo scorso anno, meno uomini, gerarchie più chiare? Anche se comunque c'è sana competitività, perché il mister ha detto che qui non c'è nessuno che ha il posto da titolare, tutti i giorni dobbiamo dimostrarlo sul campo. Sicuramente, ma anche se non credo che ci sono meno giocatori, perché per ogni ruolo siamo in due. A sinistra siamo io e Ugo, a destra il mister sta adattando Matteo Ciofani, quindi ognuno si gioca il posto col compagno e tutti i giorni lo deve dimostrare. Allora ti chiedo un po', come sta Ugo Campagnaro o sempre pronto? Ugo sta bene, Ugo è un professionista, quindi non c'è bisogno di... Lui sa come deve allenarsi, come deve curarsi, ma Ugo è come si può dire, un usato garantito. Quando lo mettiamo in campo fa sempre il suo. Dall'alto della tua esperienza, come vedi Matteo Ciofani come difensore centrale? Come si sta comportando? Matteo bene, Matteo è un ragazzo serio che lavora tutto l'anno, sta sempre sul pezzo, non ho mai visto un allenamento non allenarsi bene, quindi è uno che dove lo metti te lo ritrovi sempre. Sicuramente il loro difensore centrale è una novità per lui, però si sta impegnando in allenamento e lo fa veramente bene. A proposito di Salerno, l'anno scorso sul cross di Scognamiglia, di Antonucci, il tuo primo gol stagionale pone fatti tanti. Sì, da lì è partito, ogni tanto ci sta a fare qualche gol, quindi che benvenga, se porti anche punti alla squadra è ancora meglio. L'ultimo a Gennaro, io ci provo. Ieri il Presidente Sebastiani, i nostri microfoni, ha detto che arriveranno quattro giocatori. Dall'alto della tua esperienza, secondo te cosa serve a questa squadra? Ci provo, e so che è una domanda difficile per voi. Secondo me siamo anche una buona squadra così, l'abbiamo dimostrato a Empoli su un campo difficile, contro una squadra attrezzata per vincere il campionato. Però? Non c'è da sbilanciarsi, sicuramente se arrivano giocatori importanti per la categoria, che benvengano, tutti vogliono i giocatori importanti nelle squadre, però devono capire che quando vengono qui si devono mettere a disposizione e devono correre, può venire chiunque, per me fa piacere se arriva un giocatore importante. Come dice il Press, dovrebbe arrivare un esterno alto, perché dovevamo prendere sottile, ma sottile dicono che è difficile, quindi dovrebbe arrivare un esterno alto, una mezzala e un terzino sinistro. E oggi arriverà anche Castanese. Va bene.